Siete pronti per un'altra buonissima ricetta? Vedete io ho comprato questa panna qua, va bene? L'ho presa dall'Eurospin, l'abito officinale all'Eurospin, quindi l'ho presa, vedete, 4, quindi un litro di panna, quindi ho messo nel frigo il boccale, perché deve essere bello ghiacciato, freddo, e la frusta. Quindi voglio fare insieme a voi il burro, il burro fatto in casa, intanto non ci vuole niente, no? Mui vi faccio vedere tutto il procedimento, ecco qua, con un litro le dovrà uscire 400-500 grammi di burro, ok? Adesso abbassiamo l'acqua, facciamolo perché questo si deve montare a panna, un po' dopo vi faccio vedere. Inziamo, deve montare bene bene, quando si monta a panna. Inziamo, deve montare bene, non ci vuole, 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 non ci vuole. Guardate, sta quasi per diventare panna, vedete, sta montando bene. Guardate ora, io adesso spengo, vi faccio vedere. Allora, vi faccio vedere, guardate, vedete, è diventata panna, ok? Adesso la metto ad alta velocità, proprio all'ultima velocità, deve andare velocissima, va bene? Perché si deve proprio stravazzare, perché adesso si devono dividere la panna con il liquido, ok? Quando si formerà il burro qua sopra, tutto alla... si deve ben amalgamare sopra la... A stuoso qua, non mi ricordo come si chiama. Vabbè, ti capito. E quindi, poi vi faccio vedere. Lo sbattitore si chiama. No, ma giù, guardate, eh. Dai, vabbè, ad alta velocità, adesso... Adesso deve diventare burro, eh. Ci devono dividere i due liquido. Guardate come è smontato, vedete, adesso inizia a prendere il colore giallino. Guardate, vedete, così deve diventare. Adesso andiamo a togliere, guardate. Adesso lo andiamo a togliere, lo mettiamo dentro la ciotola e poi vi faccio vedere tutto, eh. Allora, togliamo tutto. Quando inizia l'acqua a fuori uscire, è pronta. Burro, vedete? Questo adesso. Prendo la spumalavola. Questo adesso lo dobbiamo stringere bene bene, eh. Vedete? Ecco. Mo' mi è rimasto il latticino dentro, eh. Questo qua però non si butta. Quello mo' vediamo se faccio il pane e apposta dell'acqua ci metto il latticino. Ok? Adesso. Lo stringiamo bene bene così. Faccio vedere da vicino. Togliamo tutta l'acqua. Che bello, eh. L'avete visto? Ho fatto vedere pure come dobbiamo fare il burro a casa. Siamo bene bene perché deve uscire l'acqua, eh. Il liquido. Adesso io ho preparato la carta forno. Che mo' gli diamo una bella... ...forma. Oh, guardate qua che bella palla. Questo ci serve, eh. Avete visto? Guardate. Questo è il burro. Va bene? Adesso vi porto di là. Vi faccio vedere. Eccoci qua. Quindi io ho preparato già un contenitore. L'ho messo sulla carta forno. Vogliamo una bella forma. Potete darsi qualsiasi forma che volete, eh. Abbiamo fatto un bello panetto. Bello rotondo. Fate così. E voilà. E questo è il burro. Guardate che burro. Adesso. Poi potete fare la mattina colazione e metterlo sopra. Guardate. Guardate. Avete visto? Questo adesso io lo avvolgo. Così. Tipo caramella. E lo andiamo a mettere nel frigo. Lo lasciamo due o tre ore e poi questo si può utilizzare. Va bene? Lo metto qua dentro. Ho un contenitore. Così. Così. E lo mettiamo nel frigo. Ok? Adesso vi faccio vedere il latticino. Allora. Questo è il latticino che mi è rimasto. Vedete? Di qua adesso. Non è che lo butto io. Vedete? Faccio un bel pane. E lo utilizzo. A posta di mettere acqua. Mettete questo che vi esce buonissimo. Ok? Questa ricetta è nuovissima. Fatela e vedete che avete sempre il burro in casa. Se no c'è un cattavo che c'è conservanti. Invece qua conservanti non ce ne sono. Va bene? Ciao. Un bacio a tutte. Mi raccomando. Fatemi sapere se vi è piaciuta la ricetta. Ok? Condividete i miei video. E like. Ciao. Ciao.